Ciao a tutti ragazzi, sono Luke ed eccoci qui in un nuovo episodio di Quake Live insieme a Joy che ha appena ruttato. E niente, intanto faremo sempre ancora Noob vs Pro perché questi qua sono dei cittoni pagoni del cazzo, cioè pagare i giochi in questo modo io non lo trovo giusto, però ormai i free to play sono così che o paghi o ti inculico la sabbia. L'unica roba è uccidersi a vicenda, sbranarsi a vicenda. Aspetta dai, intanto non possiamo anche ucciderci. Ma poi sono tutti pro eh, non è che ce n'è uno come noi che non ha pagato il gioco forse. Non per, no, non è per il gioco. Non per, no, certo perché era in chat però, dettagli. Ehm... No, per mio qua, oh, guardò... Chi sta perché si può fare la festa delitto? Fragi... Ma tu, 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 tu. Non capito se quello è verde ti uccide in un colpo, no. Ma cos'è? 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 Oddio non sono morto, è cosa pazzesca. 54 di vita. E poi qua i robbie della vita si trovano di un raro, cioè si trovano stra poco in mezzo alla mappa. Oppure non si trovano. Cioè non è che... Si trovano di là. Ah, non si trovano. Beh, clan arena è magari di là. Ok, sto facendo 1 a 4. Sì, non riesco neanche a ucciderne. Oh, no, no, no. Devi aspettare che qualcuno vada in chat e poi lì con 80 bazzucati forse riesci a ammazzarlo. Sì, con la chat, con una in chat e poi via. Dipende se è veloce a scrivere, quindi... Altrimenti fotti l'Aquila 1 mentre uno premium ovviamente sta uccidendo uno. Tu gliela fotti all'ultimo secondo. Ma io non voglio pagarlo questo gioco però, cioè... Cioè dover pagare il gioco qua, se a te non va. A parte, io non so cosa cosa ti dà questo vantaggio tu. Eh, beh, basta. Lo vedi giocando tipo adesso. No. Non lo... Non lo... Non lo so, o se non ti siano scarsi. Ora mi sta la gamma un po'. E lui con un colpo ovviamente mi ammazza. Lo sapete che siete nerd? L'hai scritto a te? Sì. Questi quelli tipo, boh... Io non li capisco. Ma non possiamo dirgli di andare su TeamSpeak così lì stai a me addosso. Giusto. C'è una partita che non so con me ha fatto 50 figli. Anch'io... No, beh, non 50 però. O chi stavo giocando con Tribal? La prima partita che ho registrato? Enchatt! Enchatt! No! Mi ha ucciso il suo compagno! Tu scrivi cosa a caso sulla chat in modo che loro dicono spam, spam, spam. E così tu uccidi. Sì, 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 sì. E basta! Ma secondo me loro lo vedono che siamo... che non siamo pro. Oss... Mi ne vado. Dai, aspetta un attimo. Ok, non so se già essene andato o cosa. Mi ha fregato un altro! Comunque finirò la partita da solo allora. anche se mi sta laggando un po' è un lag sopportabile ah questo qua con il coso non so se Joy è ancora in partita Joy? ah, però voglio fare il mio grande saluto questo ah, you are moved bella ciao Joy ciao 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 ok ma TeamSpeaker che dice cose abbastanza a caso ma si fra un po' chiudo il video credo che finchè non diventerò pro non giocherò più questo gioco cioè non farò più video su questo gioco essendo come potete aver visto molto select cioè molto stupido dalla parte dei pro e dei non pro cioè poi siamo anche noi in abbazzi però comunque si vede che c'è un grande vantaggio da parte dei premium se giocate a questo gioco me lo dite che possiamo organizzare una partitella insieme guarda questo qua, adesso voglio vedere perchè ti uccise mi fa no tu vieni qua figliotino brava mamma ah la moto che mi fa molto piacere arrivare adesso ma si ragazzi direi che per questo video è tutto mi raccomando mettete un bel mi piace commentate ma soprattutto iscrivetevi al canale ah una cosa importante che avevo da dirvi troverete in descrizione verso la fine della descrizione il link del canale di twitch il link del canale di twitch del canale del nostro canale di pole and yuk dove non spesso però almeno una volta a settimana farò dei video ma tranquilli che vi... oh my god l'ho fregato che vi avviserò quando su anche la pagina facebook quando farò i live oltremente farò un piccolo video tipo di 8 secondi per dire che farò i live a breve comunque niente direi che per questo video è tutto e al prossimo video VOGLIO LEIIIIIIII repeating grazie a tutti